cani amici del mondo della radiestesia buongiorno e bentornati qui sul mio canale allora chi mi segue sul gruppo di facebook il mondo della radiestesia sa che ultimamente avevo raccolto una serie di domande perché il mio intento era quello di scriverci un libro invece poi ho deciso di non scrivere più ma di usare quelle domande per una rubrica 50 sfumature di radiestesia il nome è quello che è però è il primo che mi aveva luto in mente e forse il titolo va a fare come dire a fare luce proprio su quelle sfumature della radiestesia che di cui tanti parlano ma poi alla fine quando scendi nel nel dettaglio escono fuori solo giri di parole allora la prima domanda in assoluto che ho ricevuto è stata solo qua come cercare di essere il più neutrali possibile dur durante una ricerca radiestesica la risposta è complessa non è complicata mai complessa essere neutrali è un aspetto di grande importanza c'è chi parla di vuoto mentale questo vuoto mentale che poi alla fine è silenzia i pensieri lo riescono a fare in pochi secondo me è un dono io non ci riesco però ho ragionato in un modo tale che mi ha portato poi anche ad avere dei riscontri se il pendolo risponde grazie ai impulsi nostri inconsci il trucco secondo me è quello di se le di annullare la parte razionale che sarebbe un vuoto mentale sì in un certo senso sì ma la annulli non solo con una respirazione magari di afframmatica stando in uno stato di coscienza estremamente rilassato ma lo vai a fare stimolando la parte razionale eccessivamente affinché l'inconscio il libro poi di esprimersi vi porto un esempio le elezioni erano le europee del 2020 inizio del 2020 credo sì 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 i seggi come sapete generalmente chiudono intorno alle 11 di sera quel giorno io non ho pensato a mettermi a fare il pronostico alle 10 e 55 dico ciò cinque minuti prima che egli è che chiudono i seggi con gli exit pole dopo un quarto d'ora già si sa più o meno il 3 allora ho detto dai fammi prendere cinque partiti i cinque quelli più importanti lega fratelli d'italia e cinque stelle indipendentemente dal credo politico adesso non c'entra niente ho preso i primi 5 6 partiti il pd più europa ok e con una tavola da 0 a 100 in fretta e furia con la tv accesa che mi dettava i tempi mancano tre minuti alla chiusura del seggio manca un minuto tipo il countdown capodanno tocco il simbolo lega e vedo a quanto va e faccio così per tutto quanto vi dico solo che io stavo sotto la mia la mia stanza era due piani sopra quindi l'ho fatto le scale anche di corso quindi anche a livello di respirazione non era proprio una respirazione corretta ebbene tranne credo il movimento 5 stelle che l'ho sbagliato clamorosamente gli altri ho avuto risultati in linea con i sondaggi che con gli ultimi sondaggi che avevano come data circa due settimane prima perché sappiamo che prima delle elezioni c'è un periodo in cui c'è non solo c'è il silenzio elettorale ma c'è anche il silenzio dei dei sondaggi allora io lì io credo che non serve essere zen per usare il pendolo tra l'altro in occidente è complicato no perché siamo soggetti a stimoli continui il lavoro lo sullo stress le preoccupazioni la tv la radio senza dubbio andare in tibet ci consentirebbe sì di avere un vuoto mentale ancora più incisivo questo per far per farvi capire cose poi vi faccio anche un altro esempio che il radiestesista la cosa che deve fare è non silenziare la parte razionale ma distrarla io non credo che la silenzio neanche quando muoio però può essere distratta ok quindi lasciamo andare ovviamente stiamo concentrati sì non è che dico intanto ci abbiamo il pendolo intanto mandiamo il messaggio no stiamo conci entrati facciamo poi una ulteriore un ulteriore testa anche a distanza di qualche minuto questo ci consente di avere poi una contezza di quello che abbia fatto è ovvio che questa cosa che ho detto può far saltare sulla sedia i radiestisti quelli più ortodossi quelli per cui il testimone si prepara solamente prima nel disimpregnatore poi nel triplo decagono quindi solo per la per la preparazione di un testimone e ti partono a meno due tre ore i talebani dei circuiti rivolti al nord che i circuiti debbano essere rivolti al nord è sempre meglio è quello sì quindi possiamo anche fare un test cieco allora mettiamo caso dobbiamo comprare casa siamo indecisi tra due case perché sono perfette se stanno entrambi al centro hanno lo stesso prezzo la vetratura è quella e vai un attimo in crisi magari hai una parte tua che ti dice fammi scegliere quella però non so sicuro per toglierti il dubbio che comunque scegli sei contento fai un test cieco cioè prendi due fogliettini di carta scrivi via fontanella del suffragio che dove sto ora via oro loggio vecchio dove stavo prima chiudo mischio botto sul tavolo passo il pendolo se il pendolo su un foglietto fa sì allora è quello ok si prende e si legge l'indirizzo oppure foglietti mischia a terra si tocca il foglietto e si va su un quadrante da zero a d e c e si può chiedere come dire quanto è adatta questa casa per me otto ok andiamo sull'altro foglietto che è chiuso ok proprio per non farci influenzare si tocca il foglietto quanta data a questa casa dieci o allora qual è casa via fontanella del suffragio prendo compro se invece vediamo i due indirizzi magari noi inconsciamente possiamo influenzarlo il pendolo invece se è cieco quindi se non leggiamo gli indirizzi come lo influenziamo a conferma di quello che abbiamo fatto si può fare anche un test chinesi o logico che farlo per conto proprio può essere un po complicato però se abbiamo una persona con noi ci può senza dubbio supportare il consiglio che do sempre è quando si fa una ricerca radiestesica dobbiamo cercare comunque di essere il più rilassati possibile quindi la respirazione diaframmatica quindi fatta con il diaframma che questa parte che sta subito sotto ai polmoni si gonfia la pancia praticamente perché un conto è fare vedete quella superiore quella apica apicale no quando uno c'ha paura fa oppure quando uno è teso vedete invece quando uno è rilassato gonfia la pancia il diaframma massaggia il plesso solare ok quindi ti conduce a uno stato di rilassatezza è la respirazione che noi abbiamo quando siamo quando siamo a letto quindi quando siamo sdraiati anche quindi il vuoto mentale sì ma condizione imprescindibile è riuscire a silenziare la parte razionale che è il vuoto mentale se vogliamo sì ma se non ci riusciamo perché magari come come me c'è qualcuno che è ipercognitivo quindi a questo flusso di informazioni continuo e incessante per tutto il giorno notte compresa accogliamo questa cosa sfruttiamola ripeto ovviamente concentriamoci sulla domanda concentriamoci sul cliente ma la testa lasciamola andare dove deve perché non è la testa la parte razionale che risponde ma è quella irrazionale è quella inconscia ok che deve uscire fuori e per uscire fuori deve avere spazio deve avere sfogo per avere sfogo quella parte razionale deve essere messa da parte ok fate tranquillamente una prova accendendo la tv andando su qualsiasi canale fate un test il pendolo se vi concentrate anche solo sulla domanda il pendolo comunque si muove vi faccio un esempio al volo ho qui un film prendo il pendolo non so se sentire chiedo di chiedo se il mio nome è emiliano io intanto sto guardando il film vedete la mia mano si muove perché braccio è sospeso micro i micro movimenti ormai credo che ne abbiamo già parlato è impossibile stare con un con un braccio completamente fermo è impossibile è impossibile sei una statua e se sei una statua lì il pendolo non si muoverà mai allora grazie questa è solo la prima domanda piano piano risponderò anche alle altre grazie a tutti nel link qui sotto avete nella box descrizioni c'è qui sotto c'è un link dove potrete chiedermi informazioni in privato su corsi ed eventuali consulti grazie a tutti